Dopo l'esordio vincente in campionato in trasferta contro il Frosinone, la Viss mediterranea Soccer si presenta al suo pubblico domani allo stadio Pertini di Montoro. Le calciatrici allenate da Vincenzo Rispoli affronteranno per la seconda giornata di campionato di Serie C nazionale, girone C, il Monte Spacchiato. Il tecnico della Viss presenta il match e torna sul blitz in terra a Ciociara. Devo dire la verità, il clima è serenissimo perché quando si vince, soprattutto se si vince fuori casa e si fa anche bene dal punto di vista del gioco, poi la settimana lavorativa si trascorre in maniera ottimale. Devo dire la verità, domenica scorsa abbiamo messo in pratica veramente tutto quello che abbiamo fatto in questo mese di agosto. Le ragazze si sono impegnate tantissimo e d'altronde a Frosinone effettivamente hanno messo in campo tutto quello che abbiamo provato durante il periodo di preparazione. Lancia l'appello alla comunità montorese a gremire le gradinate del Pertini. I tifosi ci dovrebbero essere vicini perché queste ragazze hanno bisogno anche del supporto dei tifosi. Io vedo la settimana scorsa a Frosinone abbiamo disputato una gara davanti ad almeno 700-800 persone. Spero che il pubblico di Montoro capisca che queste ragazze hanno bisogno di sostegno.